L'Uviene dell'Usole Adesso l'Uviene dell'Usole si è cominciato ad arrivare. L'Uviene diceva che era il più forte, ma l'Usole diceva che era lì la potenza più grande della terra. All'ultimo deciderne di fare una prova, vedere un passante che si accamaneva per una passatura e deciderne che il più forte era questo stato, quello che non aveva visto che prima le roba d'anguardo. L'Uviene è che si mette all'opera, e cominciò ad arrivare a arrivare a arrivare a arrivare a arrivare ma in un ciclo passando si raccoglieva di più in la passatura. L'Uviene allora arrivare più forte e l'Uviene con la capacchicchietta si raccoglieva a scarpare il cuore. A tutto il pollo solo, scacciando le nuvele, cominciò a fare l'ucio. l'Uviene che è arrivata in un ponte ha cominciato a picc'a picc'a a luare sul pastello. L'Uviene, a seconda, portava il calore all'iragio. Tanto che a vambarne, l'Uviene russo con il caldo forte vede l'acqua del fiume e è pronto a rimanere. L'Uviene, l'Uviene, testa, l'Uviene. L'Uviene, l'Uviene, l'Uviene. Il l'Uviene. 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 Grazie a tutti